Musica Si colpisce al volto con un mattone, 55enne, trasportata in codice rosso al torrette di Ancona, la donna che non sarebbe in pericolo di vita, ha confessato l'atto di autoresionismo. Fa l'autostop e ruba telefoni e portafogli, denunciato dai carabinieri un marocchino di 40 anni. Partiti questa mattina i lavori di bonifica, sanificazione e sigillatura degli ingressi all'ex convitto Vittoria Colonnafano, squadre a lavoro per diverse settimane. Paletti sul molo di Levante a Pesaro, il consigliere regionale Biancani torna all'attacco e ne chiede la rimozione, perché pericolosi, pareri discordanti tra i cittadini. Penso che per la sicurezza si può passare di sotto, si può passare di sopra, se ti appoggi penso che vuoi giù, quindi non lo so a cosa serve. Chiesa di San Pietro in Valle, qualcosa si muove, il comune ha lavoro per riaprire le porte, affidato all'Università Politecnica delle Marche, l'incarico per uno studio sull'umidità che provoca i dissesti che la rendono inagibile, tra gli strumenti anche un georadar per capirne le cause. Polemiche su passaggi festival, dopo lo sfogo del direttore Belfiori, l'assessore al turismo Etia Lucarelli conferma il supporto all'evento, che si dedica alla città, detto deve essere ringraziato e motivato. Scendono in campo, a difesa dell'evento, anche CoCommercio e Confesercene. Mercoledì 26 aprile, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Momenti di apprensione questa mattina in un'abitazione di via Monte Nevoso a Pesaro, dove una donna è stata trovata ferita con accanto un mattone sporco di sangue. In un primo momento si è pensato ad un'aggressione, poi però la donna ha confessato il gesto autolesionista, i particolari nel servizio di Marco Lonigo. Questa mattina, intorno alle 9, una donna è stata trovata sanguinante, ferita da una pietra in via Montenevoso a Pesaro. I vicini di casa, dopo aver sentito delle grida, hanno immediatamente allertato la polizia. I primi segni avevano fatto pensare ad una brutale aggressione, ma col passare delle ore lo scenario è completamente cambiato. La donna, una colf pesarese di 55 anni, stava attraversando un periodo difficile e ha deciso di colpirsi da sola con una pietra. Quest'ultima è stata ritrovata insanguinata accanto a lei. La confessione è arrivata nel pomeriggio odierno durante un colloquio tra la donna e una psichiatra. Paura anche in fase di soccorso, il personale del 118 aveva chiesto all'intervento dell'eliambulanza. Il veicolo, atterrato sulla statale all'altezza di via Milano, nell'area di smessa di un benzinaio, ha riportato dei danni all'elica dopo aver ruttato accidentalmente un cartello stradale. E per questo motivo non ha poi ripreso il volo. I carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne di origine marocchina con numerosi precedenti penali, ritenuto responsabile di un furto aggravato. Le indagini sono partite dopo le denunce esporte da un 64enne per il furto del suo cellulare e di una 32enne alla quale è stata rubata una borsetta con all'interno denaro, documenti ed effetti personali. Entrambe i denunciati hanno riferito ai carabinieri di aver concesso un passaggio con le rispettive autovetture a uno straniero a loro sconosciuto, salvo poi accorgersi di essere stati derubati degli oggetti custoditi all'interno dei loro veicoli. I militari, sulla base delle descrizioni fornite dalle vittime, sono risaliti rapidamente al marocchino che è solito spostarsi sul territorio chiedendo passaggi agli automobilisti in transito. E addolora la notizia della scomparsa di Roberto Cecchini, una persona generosa, umana, dallo spiccato senso civico. Il sindaco Matteo Ricci ricorda così l'ex consigliere comunale morto all'età di 67 anni. Roberto è stato un professore ed un educatore molto stimato e amato da studenti e colleghi. Per anni ha svolto un ruolo centrale nella crescita di molti giovani ed è stato anche un caposaldo per un'intera comunità, quella di Cattabrighe e Santa Maria delle Fabrecce. diventandone anche presidente di quartiere. Di lui ha proseguito il sindaco. Ricordiamo anche l'impegno politico e civile come consigliere del comune di Pesaro, ruolo che ha svolto con grande serietà per due mandati. Roberto mancherà alla nostra comunità, ma sono sicuro che chi lo ha incontrato nel proprio cammino saprà prendere spunto dal suo esempio. Ed ora andiamo a Fano dove sono iniziati i lavori di bonifica, sanificazione e chiusura degli ingressi all'ex convitto Vittoria Colonna. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e gli operai. Alle 7 di questa mattina sono partite per l'ultima volta le procedure di sgombero da parte degli agenti del commissariato insieme alla Polizia Locale di Fano nelle sale interne all'ex convitto Vittoria Colonna in via Montegrappa. Questo perché proprio in queste ore una ditta specializzata è al lavoro per bonificare l'intera area oggetto negli ultimi periodi di bivacchi e incursioni abusive. Una situazione diventata insostenibile e più volte segnalata all'amministrazione comunale dai cittadini che abitano nei pressi della struttura. Devo anche ringraziare la prefettura che è stata sempre in prima linea, ha fatto anche da interlocutore, abbiamo fatto in modo di anticipare anche i lavori già programmati di intervento per metterlo in sicurezza, per una questione di decoro, questione anche di igiene. Oggi ci siamo, la ditta è già arrivata e alle mie spalle ha iniziato a lavorare, ovviamente è un lavoro che non si concluderà in pochi giorni perché è un intervento di sgombero interno di tutte le cose che ci sono, di sanificazione e di sigillazione delle finestre del primo piano per impedire che possano entrare con facilità come è avvenuto in passato, fra l'altro erano già sigillate ma con il compensato, ovviamente facilmente rimovibile, quindi a oggi a tutti gli effetti gli operai della ditta dovranno montare anche le impalcature, insomma si è avviato il lavoro dell'intervento vero. Poi ovviamente la cosa che a noi interessa non è soltanto questo, è anche la prospettiva di questo spazio importante che INVIMIT, che INVIMIT ha inserito nel fondo INVIMIT proprio per valorizzarlo e farci degli investimenti importanti che ovviamente sono investimenti che riguarderanno il medio e lungo periodo. La struttura di proprietà di INVIMIT, investimenti immobiliari italiani, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà oggetto di lavori per diverse settimane se non alcuni mesi, visto la vastità della struttura composta da numerose stanze, sotterranei e giardini. Oltre alla bonifica e alla sanificazione, tutti gli accessi saranno sigillati ad eccezione del portone principale. L'intervento di stamattina ha trovato sul posto due persone entrate abusivamente nell'immobile, una proprio all'interno dell'immobile e una nel giardino, in questo giardino. Va ricordato che gli interventi precedenti già da noi condotti hanno individuato all'inizio una decina o qualcosa del genere di occupanti abusivi e poi negli interventi successivi questo numero è andato diminuendo. Questa mattina l'operazione è seguita a un accordo con la proprietà, diciamo, data, indicata anche da un'azione del comitato di ordine e sicurezza pubblico voluto dalla prefetto che ha messo in piedi un'operazione finalmente congiunta tra forze dell'ordine e proprietà per poter creare le condizioni di sgombero e chiusura e bonifica di un immobile molto importante che impatta nell'immediato centro storico. Secondo noi oggi si scrive una pagina nuova di questo immobile che dovrebbe essere valorizzato e anche restituito alla pubblica comunità. Dei paletti bianchi e rossi posti sulla banchina di Levante al porto di Pesaro hanno creato dibattito acceso tra cittadini e non solo in questi ultimi giorni. Andrea Biancani, consigliere regionale, ha commentato così ai nostri microfoni la nuova installazione. Paletti della discordia a Pesaro, sul ciglio della banchina di Levante e del porto sono state installate delle protezioni in vista della stagione estiva. L'obiettivo è assicurare un transito pedonale in maggiore sicurezza, prevenire comportamenti illeciti e pericolosi per le persone. Dei paletti rossi e bianchi che ha detta dei cittadini però sono esteticamente fuori posto. Qui la sicurezza non c'è, quello lì non serve a niente. Secondo me non serve insomma, però qui le critiche ci sono, anche fatte dal nostro sindaco e via via. Però qui chi comanda è la guardia costiera, perciò andare contro di loro è un po' difficile. Io non saprei cosa dire, io ho visto anche metterli su qua, a parte hanno fatto un lavoro un po' così, all'americana. Penso che per la sicurezza si può passare di sotto, si può passare di sopra, se ti appoggi penso che voli giù, quindi non lo so a cosa serve, bisognerebbe chiedere alla capitale di porto il motivo, cioè chi l'ha voluto questo per quale motivo l'ha voluto fare, non so per delimitare qualcosa, ma sicuramente per la sicurezza io non la vedo neanch'io sicuramente funzionante. Sono utili per la sicurezza? Sì, perché? Perché c'è le catene, le persone la sera magari non ci sono, i fai c'è un po' più stretti e se ne vanno giù. È sempre una sicurezza, anche per i bambini. Un assurdo quello che è stato fino a ieri, le banchine, i tavolini e tutto, e non c'era nessuna protezione, uno beve, un bambino gioca, ti finisce qualcuno in acqua, eppure hanno avuto il permesso di farlo tranquillamente, adesso mettono queste catenelle, non so se è per la protezione là, che a mio avviso non è una protezione perché le catenelle sono alte, un bambino che gioca ci finisce sotto e uno che litiga con qualcuno ubriaco finisce in acqua lo stesso, per cui come protezione non sono, sono anche antiestetiche, secondo me non dicono niente. Non si arruina niente perché se un bambino passa sotto quindi non lo salva, può salvare uno con la bicicletta ma vedo difficoltà che possa andare là finora, non è successo mai niente, tutti i giorni vengo, ma più che altro potrebbe anche essere un'idea, ma il colore, il tipo è sbagliato, non è in sintonia con l'ambiente che abbiamo circostante. Un'installazione non gradita dal comune di Pesaro, a tal proposito il sindaco Matteo Ricci ha chiesto ufficialmente la rimozione, sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Andrea Biancani che ha parlato così delle nuove protezioni. Innanzitutto è stato un errore installarli, io non ho capito veramente qual è stato il reale motivo, anche perché il porto, come tutti i porti, hanno le darsene e quindi non ho mai visto da nessuna parte installate dei paletti per la sicurezza. Le persone ovviamente non è che si divertono a cadere nell'acqua e neppure i bambini. Devo anche dire che se va avanti l'idea, che devo dire che condivido, che quella di mettere a terra quelli che sono dei segnali che vengono utilizzati dagli ipovedenti come abbiamo ad esempio in corrispondenza delle stazioni, da quel punto di vista mi trovo sicuramente favorevole perché ovviamente un ipovedente, una persona che non vede, che si ritrova in quella zona magari per loro potrebbe essere sicuramente pericoloso. Sono partiti questa mattina e proseguiranno fino a venerdì i lavori di asfaltatura nella parte alta di via del Domenichino Afano in cui era stato eseguito un intervento per la fibra. Dunque l'impegno preso dall'assessore Barbara Brunori è stato mantenuto. In contemporanea oggi sono partiti i lavori anche in via del Cuoco, via Condotti e via Giannone. In queste strade l'intervento proseguirà fino a metà della prossima settimana. Ed ora torniamo a parlare delle polemiche su passaggi festival perché dopo lo sfogo sui social del direttore Giovanni Belfiori Oggi l'assessore al turismo Etienne Lucarelli ha ribadito il supporto alla manifestazione lanciando un messaggio alla città. Passaggio e un festival di sinistra. Erano questi commenti che avevano fatto sbottare il direttore Giovanni Belfiori stanco di leggere critiche sugli ospiti da ultimo riferite alla presenza della giornalista luce annunziata. In un lungo post pubblicato su Facebook Belfiori aveva condiviso una riflessione su quanto accaduto elencando diversi personaggi della prossima e delle passate edizioni che invece non appartengono a quell'area politica. A dimostrazione aveva precisato che il festival non è un'arena politica e nemmeno una sezione di qualche partito. Eppure questa storia si ripete da 11 anni. I matrimoni per forza non possono funzionare, aveva scritto. Se non si vuole passaggi va benissimo. Personalmente non ho nessun motivo né interesse a rimanere per forza a Fano. A questo punto aveva aggiunto il direttore l'unica cosa saggia da fare è iniziare una riflessione attenta che cade nel momento più adatto poiché nel 2024 scade la convenzione con il comune di Fano. Non sappiamo se il comune rinnoverà l'accordo ma a questo punto siamo disponibili a valutare fin da ora proposte da parte di altre realtà sia nelle Marche sia in altre regioni così da liberare Fano da questo problema che è passaggi festival. In poche ore la notizia aveva fatto il giro della città suscitando parole di incoraggiamento. Avanti tutta aveva postato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli che oggi è tornato a ribadire il totale supporto alla manifestazione. Assessore Lera è intervenuto subito dopo il post di Belfiori confermando che il festival è patrimonio della città. Sì, sono intervenuto subito perché mi dispiace sentire direttamente dalle parole del direttore l'essere colpito da queste critiche che vengono mosse a passaggi. Ecco, io credo che le persone che si dedicano alla nostra città a far emergere le sue caratteristiche che sono tante noi abbiamo un humus creativo veramente importante debbano essere sempre costantemente ringraziate e soprattutto motivate a continuare a credere nella crescita della nostra città. Ecco, Passaggi in questi anni ha fatto una crescita importante è di fatto un patrimonio della città una bellissima manifestazione che fa emergere questo carattere che riguarda la letteratura che a noi piace molto e ovviamente per fare questo ha aperto una collaborazione con volontari, con associazioni, con enti, con istituzioni e quindi si può dire che ormai Passaggi è creato di fatto dalla città di Fano creando quest'ampia collaborazione e quindi crediamo che tutti insieme dobbiamo lavorare per sostenerla tra l'altro sono contento che in questi giorni sono tante le istituzioni le associazioni di categoria che sono intervenute a sostegno di questa manifestazione e quindi oltre a intimare a credere in Passaggi a imprenditori e a cittadini e nel motivare queste persone ecco, credo che tutti insieme possiamo fare un bel lavoro nel futuro per continuare a credere in questa bella manifestazione Passaggi deve rimanere a Fano E sull'argomento oggi è intervenuto anche Amerigo Varotti direttore generale di Confcommercio Marche Nord faremo di tutto, ha detto, per mantenere a Fano questa importante manifestazione rilevante dal punto di vista culturale e turistico ricordo che Confcommercio, ha proseguito Varotti ha sempre creduto in questo festival che ha sponsorizzato nelle prime edizioni quando erano pochi a credere nella validità della proposta culturale ed ora la città, la provincia, non può permettersi di perdere il problema Passaggi Festival per cui, ha concluso Varotti, Giovanni non ti curar di loro ma guarda e va avanti Invece, Alessandro Ligurgo, direttore di Confesercenti Pesaro e Urbino ha dichiarato che non è in discussione il valore culturale, economico e turistico di Passaggi Festival, del quale Fano non può e non deve permettersi di fare a meno Le polemiche relative ad un presunto colore della cultura, aggiunto in una nota sono pretestuose, inutili e non meritevoli di alcuna considerazione Parliamo di una manifestazione d'eccellenza, importante non solo per la comunità fanese ma per la provincia e per tutta la regione Marche E adesso cambiamo argomento, ci sono importanti novità per quanto riguarda la chiesa di San Pietro in Valle a Fano, chiusa ormai da diverso tempo Il Comune ha affidato all'Università Politecnica delle Marche l'incarico per uno studio sull'umidità che la rende inagibile Tutti i dettagli nelle interviste realizzate da Massimo Foghetti È bastato riaprire per un attimo la porta di San Pietro in Valle per radunare un piccolo gruppo di persone curiose che sbirciano all'interno In effetti la chiesa di San Pietro in Valle è chiusa da tempo e questo meraviglioso tempio barocco, una delle più belle chiese barocche delle Marche purtroppo ancora non è visitabile Però qualcosa si sta muovendo Cora Fattori, Assessore alla Cultura Che cosa sta accadendo qui all'interno di San Pietro in Valle? Sta accadendo quello che aspettavamo da anni Sono contenta che la collaborazione con i lavori pubblici e con l'Assessore Brunori porti anche a questo sblocco Come cultura teniamo molto tutti i monumenti in particolare a San Pietro in Valle e quindi da mesi, da appena siamo arrivati da cinque mesi stiamo lavorando tra uffici per riaprire le porte Ovviamente per renderla visitabile ci vorrà anche ancora del tempo però abbiamo affidato finalmente l'incarico all'Università Politecnica delle Marche per lo studio approfondito riguardante l'umidità che è quella che poi provoca i dissesti che ne la rendono inagibile quindi siamo molto contenti di questo sblocco Uno studio quindi propedeutico per capire l'origine dell'umidità che sta un po' così vietando la visita di questo bellissimo edificio Dopo lo studio che cosa accadrà? Allora lo studio ci serve per capire quali strategie definitive si possono adottare per evitare di fare riaperture e chiusure Riaperture e chiusure come è successo in passato invece bisogna approfondire le analisi, capire bene in modo tale che una volta che si apre, si apre definitivamente perché si sono sanati finalmente i problemi e questo è necessario altrimenti ci ritroveremo fra 15 anni a riparlare sempre del San Pietro che viene chiuso Per festeggiare questo evento abbiamo deciso in concomitanza con un'iniziativa che farà la fondazione Cassa di Risparmio sul San Pietro di aprire anche la Saletta Nolfi che nel frattempo abbiamo essa stessa riaperto e quella è agibile e metteremo delle sedie e un video che racconta il San Pietro e sarà possibile affacciarsi nella chiesa per ammirarla non si potrà entrare ma è un primo passo per iniziare a restituire un tesoro alla città Lo studio è stato commissionato all'Università Politecnica delle Marche Professor Paolo Clini Che cosa intendete fare? Come intendete agire per rilevare veramente il problema? Ma qui agiremo a 360 gradi su tutto il complesso attraverso degli step differenti e faremo la digitalizzazione accurata e dettagliatissima di tutta la chiesa non solo degli interni meravigliosi che vedete ma anche di tutti i vari annessi anche molto affascinanti qui abbiamo un mondo ipogeo meraviglioso abbiamo tutta una serie di altri ambienti ovviamente dalla cappella, dalla parte che si trova dietro l'abice quindi faremo una digitalizzazione dettagliatissima sia a livello morfometrico che a livello di texture fotografica quindi di pelle dell'edificio che ci permetterà anche di analizzare con grande dettaglio la condizione delle superfici Un gruppo lavorerà a tutta l'analisi delle cause che hanno portato nel corso degli anni a un degrado importante legato alla risalita dell'acqua e l'acqua è il più grande nemico di questo edificio ed è il motivo per cui è attualmente chiuso utilizzeremo il Gioradar per andare a esplorare tutto quello che accade al di sotto delle pavimentazioni ci auguriamo anche di trovare, chissà, qualche meraviglia archeologica magari troviamo un pezzo di basilica di Vitruvio ma forse, non credo, ma sicuramente in questo caso il Gioradar per andare a capire che cosa succede soprattutto a livello di cavità sotterranee e di condizioni che possano permettere o favorire la risalita dell'acqua contemporaneamente facciamo uno studio carattere storico archivistico perché questo è molto importante per andare a ricostruire per quanto sarà possibile per quanto i documenti ci permetteranno tutta la storia di questa chiesa noi avremo a disposizione un gemello digitale perfetto di questa chiesa che ci permetterà di fare molte applicazioni per esempio di rimettere virtualmente tutti gli affreschi al loro posto in queste cappelle di permettere a qualunque visitatore in qualunque luogo del mondo di indossare un occhiale e camminare nella chiesa così com'era nel momento in cui è stata costruita Quanto tempo avete per consegnare lo studio? Noi abbiamo un accordo che prevede al massimo 180 giorni speriamo di farlo in tempi più brevi però questo è il tempo che è previsto dall'accordo domani giovedì 27 aprile Pesaro 2024 fa tappa al barco ducale di Urbagna per il secondo incontro extraurbano degli appuntamenti mensili pensati per condividere il percorso progettuale con il territorio questa volta il target è composto da amministratori e operatori dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro realtà che unisce 11 comuni fondato nel 1465 per volere del Duca Federico di Montefeltro come dimora di pace e tranquillità e uno dei luoghi più belli della provincia il barco ducale sarà lo scenario ideale per andare alla scoperta della natura della cultura seguendo un tema preciso quello relativo alle imprese culturali e creative nel pomeriggio l'appuntamento prosegue a Fermignano l'ex lanificio Carotti sono giorni importanti ha sottolineato Daniele Vimini vice sindaco di Pesaro perché i comuni stanno mandando le loro schede di programma per le settimane in cui saranno capitale italiana sarà l'occasione ha proseguito per lanciare a tutti un messaggio forte di turismo culturale e di visione che riguarda il territorio provinciale nella sua interezza e ora passiamo all'arte con Giovanni Montesi un artista con una grande passione per la città di Fano che Cristiana Guerra è andata a conoscere sentiamo Giovanni lei è un artigiano in pensione è di origine di Candelara ma vive a Fano vivo a Fano però ha una passione quale? mi piace dipingere disegnare diciamo magari mi do da fare anche un po' qualche scultura così passa tempo per riempire la giornata ma da quanti anni hai iniziato a dipingere? a dipingere da sempre quindi da quando andavo a scuola? sì sì da quando andavo infatti ho frequentato l'istituto d'arte a Pesaro Mangaroni ma ho fatto le Medili quindi però dal 67 in poi ho continuato sempre a dipingere a fare un po' di robe varie mi sono stato sempre attratto un po' dalle vedute cittadine con tutte queste queste ombre che si vedono che tagliano un po' la veduta via ecco perché diciamo che la sua particolarità è che lei ama rappresentare Fano sì in questo caso c'ho anche altre cose però diciamo Fano visto che ci abita penso di conoscere poi Fano permette anche di avere diverse cose che magari altre città non hanno tra i suoi ritratti c'è quello dell'arco d'Augusto l'arco d'Augusto oppure c'è anche la piazza anche il palazzo Montevecchio il palazzo Montevecchio diciamo tutti tutti i scorci che più volte riproposti e poi il porto con i suoi retoni classici che poi a Fano li chiamano i quadri invece uno dei suoi primi ritratti lei diceva che era quello del Canale Albani sì adesso tra questi più vecchi sì una veduta del Canale Albani con la neve che ce l'ho in un'altra stanza che poi si vedrà questo è del 95 ma io già avevo fatto anche prima adesso diciamo che ultimamente sicuramente ho migliorato la pennellata vorrei sperare ma lei ha iniziato anche a rappresentare i suoi quadri con la china sì ho cominciato diciamo tardi cioè la china l'ho sempre fatta però voglio dire a livello di schizzi quando si usciva la domenica a fare uno schizzo in una gita dove sia poi adesso una volta in pensione una volta diciamo entrata in età adulta si sta comodi nella scrivania e ora me li faccio lì ma io ho visto anche dei sassi avevo preso spunto da un artista fanese che è del bianco e poi allora anch'io mi sono messo a provato di fare ne ho fatti alcuni e sto trascinando anche mia nipote poi alla fine il cubo mi parlava di un cubo di che cosa si tratta? il cubo ho fatto una realizzazione di scultura che sarebbe poi l'iper cubo di Leonardo che l'ho fatto nella versione che c'è nei libri e poi l'ho rielaborato a modo mio lei ha fatto anche delle mostre? sì ho avuto la forza di fare anche delle mostre la prima mostra l'ho fatta nel 79 prima che nascesse mia figlia ad oggi ha un sogno ancora da realizzare? un sogno ci sarebbe se il comune mettesse a disposizione dei piccoli locali per poter esporre tutti gli autodidati come me sarebbe poi bello quindi più spazio per tutti diciamo sì avere dei locali anche piccoli dove poter adesso avevo parlato ultimamente di poter andare anche alla darsena borghese sta lavorando su qualcosa in particolare? diciamo che ho cominciato ma è una cosa che non è di Fano sto facendo sto facendo una china di Santa Maria di Collemaggio di L'Aquila quando riuscirà a finirla? perché diciamo quando uno fa una cosa deve essere molto sincero con se stesso perché altrimenti è inutile che vai avanti e non ti piace ora devi cercare di far vedere quello che è sabato scorso a Marotta di Mondolfo è stato inaugurato il mosaico nato dal progetto alla ricerca dei mestieri frutto della collaborazione tra la federazione maestri del lavoro di Pesaro e Urbino il comune la scuola primaria Moretti e le volontarie di Mosaichiamo la città l'attività che ha preso il via lo scorso anno ha visto come protagonisti anche le classi quarte e quinte della scuola fermi di Mondolfo sono stati 87 i bambini impegnati durante le vacanze estive in una ricerca sui mestieri che hanno affrontato il tema con interviste e disegni alla ripresa dell'anno scolastico gli elaborati sono stati catalogati per poi essere riprodotti con un sapiente e minuzioso lavoro in una serie di mosaici sotto la guida delle artiste di Mosaichiamo la città il 6 dicembre poi il console provinciale di Pesaro e Urbino Luciano Nataloni ha consegnato alla scuola come riconoscimento del grande lavoro svolto un premio in denaro il mosaico è stato inaugurato il 22 aprile in una festosa cerimonia a cui hanno partecipato tutti i bambini autori dell'opera e coloro che hanno collaborato all'iniziativa invece Agabice all'altezza della piazza Caduti del Mare è stato inaugurato il nuovo murales firmato dall'artista Manu Burla si tratta di un richiamo alle tradizioni marinare tipiche di Gabice accompagnato da un riferimento al mondo della natura rappresentato dalla Ginestra il progetto rientra nella terza edizione dell'iniziativa Urbis Plantarum che ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale naturale del territorio attraverso la reinterpretazione della flora tipica del parco naturale del Monte San Bartolo e impreziosire il decoro urbano Bene, questa era la nostra ultima notizia subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dal titolo Amministrazione condivisa e coprogettazione governare il presente e il futuro degli enti locali L'appuntamento invece con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani Non mi resta che augurarvi una buona serata con i programmi di Fano TV Arrivederci Grazie